A che tipo di controlli deve sottoporsi un ciclo amatore? Sì, ciclo amatori hanno i controlli come gli atleti in ormai, in senso di fare una visita tipo B e quindi hanno l'elettrocardiogramma di base, eventualmente la prova col gradino, la spirometria e una buona visita che comprende anche un'anamnesi, perché è ovvio che poi gli esami da fare li deve decidere il medico sulla base del paziente. Per esempio a una certa età, 35-40 anni, diventa sicuramente raccomandato, quasi insomma obbligatorio fare anche una prova da sforzo massimale e poi bisogna fare un profilo di rischio complessivo dell'atleta, del soggetto, specie se in età avanzata, perché potrebbe già prendere farmaci, avere problemi anche di tipo metabolico, dislipidemia, diabete, questo tipo di problematiche. Ecco, ma com'è possibile che una persona superi tutti questi accertamenti e poi accusi un malore pochi giorni dopo aver superato i controlli? E purtroppo la morte improvvisa, qui non abbiamo ancora il dato preciso o topico di quello che è successo a questo signore qua, a questo atleta, a tante cause, potrebbe essere stata una rottura di aneurisma perché magari con un picco pressorio, con le salite possibili, sapere appunto i stili di vita adeguati, eventuali familiarità, è successo anche a professionisti del calcio che oltre a questi controlli fanno già un'icografia che per esempio potrebbe permettere di scoprire altri tipi di anomalie che portano alla morte improvvisa. La morte improvvisa non è sempre solo l'infarto, può dipendere dall'origine anomala delle coronarie, da una malattia degenerativa del cuore, anche dopo una semplice virosi. Zeppilli, che è un po' il padre della cardiologia sportiva, per esempio anche in convegni fatti anche qui nelle Marche, dava indicazioni che dopo un'influenza bisognerebbe fare almeno 15 giorni di riposo e quando si riprende, se uno si sente stanco, non si sente in forma, bisognerebbe fare delle verifiche. La morte improvvisa è molto diminuita in Italia perché si fa un grosso progetto di screening e si scoprono forme malformative e la medicina sportiva in Italia ha permesso di scoprire malattie che non si conoscevano, proprio grazie a questo lavoro tutta la popolazione, ma non possiamo escludere in assoluto la possibilità della morte improvvisa.